Mentre il campionato di Serie A è ufficialmente fermo, sul campo di Biella si è recuperato il sesto turno che vedeva impegnate il Biella Rugby e il settimo Torino. Originariamente la gara si sarebbe dovuta disputare a settimo, ma a causa dei campi ghiacciati si è optato per giocare a Biella. Una scelta che ha pagato, premiata da una bella giornata di sole e da tanta gente a bordo campo per tifare la squadra per l'ultima volta quest'anno. Leggera tensione nell'aria prima e durante il match, a causa della sana rivalità che intercorre fra le due società. Sul campo però tutto si è svolto nel massimo rispetto di regolamento e avversari. Al termine di una dura battaglia ha prevalso Biella, punteggio finale 35-18, 5 mete segnate e 5 punti buoni per la classifica che vede i biellesi ancora imbattuti in questo straordinario 2021. Merito anche agli avversari che, al netto del risultato, hanno combattuto duramente e vinto molte statistiche. Il successo dei gialloverdi va attribuito all'ottima tenuta in difesa e ai brillanti spunti individuali concretizzati però dalla capacità di tutto il gruppo. Da segnalare che la formazione schierata in campo da coach Purrino era fortemente rimaneggiata. Proprio così il tecnico nel dopo partita. Chiudiamo il 2021 con una vittoria ed era quello che volevamo. Non è stata forse la nostra miglior prestazione per tanti motivi, ma quello che contava era portare a casa il risultato e così è stato. Mi è piaciuto l'atteggiamento in difesa, ma non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Siamo stati indisciplinati. Ogni azione era interrotta e se non fai gioco non lo crei. In merito alla formazione ho preferito permettere un recupero tranquillo a chi ne aveva necessità. Il migliore Rorato, perché in un incontro così nervoso e frammentato ha tirato fuori dal cilindro due conigli che hanno fatto la differenza.